Scusi, come va l'influenza? 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 Ti faccio la multa, che non si parla al telefono! Scusi, come va l'influenza? Scusi, come va l'influenza? Scusi, come va l'influenza? E un'emozione che trova nei confronti? Le caratteristiche per poter ripartire, assolutamente sì. Per l'ambiente invece, una parola all'ambiente, cosa vorremmo fare per l'ambiente? Il finamento prodotto da queste auto viene rigenerato perché questa organizzazione crea la Eco Tarcaplorio, quindi per ogni particella di un monodosso che viene messa nell'atmosfera, loro piantano alberi in Abruzzo, credo. Quindi le persone che comunque vivono l'infinamento qua dovrebbero andare in Abruzzo per riprendersi dai cazzo? Piantarla qua è un po' dura. Quindi è una cosa un po' per rilavare la crescenza, la pianta, dopo ciò che vuoi dire. È giorno di polemiche oggi o di festa? No, sono semplici domande. Fetta, dovrebbe essere per tutti la festa. Mi pare che non sia. Sì, è solo per voi. Ah, c'è tanto perdone. Sì, è solo per me. Non penso che la pensino tutti così. No, no, ma infatti sono io che mi sto parlando con lei. Grazie, mister. Prego, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, mister. No, grazie. Grazie, grazie. Mister, tutto a posto? Tutto bene, sì, grazie. Bellissimo. Tutto bravissimo. Ok, grazie. Lancia, che lancia. Vai! Non ci vedo. Grazie. 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 E' veramente una delle prime letture che c'è da. Stiamo commettendo qualche errore di troppo. Stamattina siamo partiti che eravamo noni perché ieri nelle prove notturne abbiamo sbagliato due prove e le abbiamo pagate care. A due prove dalla fine della giornata di oggi siamo riusciti a risalire fino al terzo posto con una grandissima rimonta strepitosa. Poi ho commesso due errori ancora e siamo riscivolati i sesti. Si vede che non è mica weekend. Però domani c'è ancora una tappa più dura, più lunga, quindi non molliamo mai e poi quando arriveremo, se arriveremo domani in sera, vedremo chi è stato il più bravo. Come è stato questa autovettura? Questa è una lancia a Stura Mille Miglia del 1938, è stata costruita apposta per Gigi Villoresi, che era il pilota ufficiale lancia dell'epoca per fare la Mille Miglia del 1940. Oggi è di proprietà del Museo Nicolis che l'ha ricomprata in Svizzera negli anni 50, l'ha ristaurata in maniera maniacale, perfetta, esattamente come era allora, proprio con l'aiuto di Gigi Villoresi. E adesso abbiamo avuto il privilegio, per la prima volta l'hanno fatta guidare a persone diverse dal museo, dalla famiglia di Colis, noi abbiamo avuto il grandissimo privilegio di portarla a questa Mille Miglia. Per noi è una cosa molto importante perché non c'è più solo l'aspetto sportivo, il quale sicuramente teniamo, ma anche il piacere, il grande onore di guidare un'auto così leggendaria alla corsa più famosa del mondo. Tutto questo, unito al fatto che proprio qualche settimana fa se ne è andato il fondatore di questo museo, Luciano Nicolis, quindi è ancora più toccante questa Mille Miglia per noi. Vi auguro di arrivare i primi, ma se dovresti arrivare i secondi... Applaudiremo il primo! Bocca al lupo! Grazie, grazie! Oh, ciao! 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 Domanda suggerita, grazie! Ho un po' calore, domanda. Questo chi era? Chi era il risotto a questo? Chi era il risotto? Dietro! Dietro! Ah, quelli che hanno messo la risposta. Ah! Grazie! Il genio era, non ero? Sì. Dietro, dietro, dietro! Dietro, dietro, dietro! Sì, è la Mille Cento! Guarda qua! Ma questa è la cosa, la Mille Cento! Non è la Mille Cento, è lei! Sì, è la Mille Cento! Sì, è la Mille Cento! Sì, è la Mille Cento! ma vai tranquilli grazie a tutti 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 finita a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti